dici di no? dici che mi appoggio? via faccio un buco e poi la metà no stavo cercando di saltarti via ne vuoi? ne vuoi un pezzo? dividi questo lì ostia oh c'è bidet qua è uno scatolo bisogna lavorare no? per piccoli quello è solo per centrarlo c'è un martello non ce l'abbiamo adesso vai stasi che c'è qua prendiamo il set che lavori lei che io mi controllo lei è già in posizione lascia fuori così passa lui il marco per primo la ruota dentro subito stavo dicendo che cazzo è che sta bucando ancora? hai visto qua colfanti la maggiorate più grosse non devi mettere qui niente alti due metri colfanti una ramella di quelle maggiorate sono dentro lì rubane una al tassello come non ce l'ha? quella lì grossa ce l'ha? quella è più grossa eh scusa con senso ho un'interna e un' esterna ciao roni ciao pietro c'è una ce l'ha in negozia e non la devi fissare devi fare altri due buchi prima se ciocca non va bene non aveva una buon visuale da là non riuscivo a riprendere i lavori un pennarello un pennarello punta fine un gessetto ecco non sta lì la piastrella non è durata tanto ha fatto la fine del topo se no portiamo la saldatrice gli saldiamo su un'altra piattina e ci abbiamo là tutto facciamo gli addestramenti giusti che cavolo io non sono capace non sono mai riuscito con la moto tanto disposto da sotto ma si rompono sono questi si spaccano tutti sono tipo le cose che mettono sui schesti qualcuno l'ha già provato a fare il buco questo è mezzo piatto e mezzo no Marco portala questo qua dove? la dove? la la scaletta dici che è troppo grosso o no? è troppo grosso eh ma è giusto però quello lì ma ne minga piatti è troppo grosso passo che questo dovrebbe andar bene era ancora la cosa migliore ho lo stracetto per pulire le mani durata media primo allagamento sparita sono sicuro al 100% io vengo qua a riprendere è sicuro e se riesci qua è il massimo e fa niente che se resta fuori un pezzo ragazzi ho rischiato la vita per affugare i passetti qua in vita e vogliono me li produttiamo oh ma che io sto riprendendo quelle che avanzo io rivendo hai visto devi tirarle fuori dai tasselli quelli giganti se non c'è la bolla non si fa comunque davvero se quello lì lo buchiamo un pochino quando sono caduto mi sono fatto male a un piede davvero mi è rimasto sotto la moto e la sono caduto che dici te l'ho detto che sono i vici con i gucci potevi sfollare la sirena no? uè 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 dov'è la sirena? ah mi ho preso dov'è la sirena? faccio che prendite la multa su lì gliel'ho detto che arrivassero la sirena vedete come si scappava qua stiamo lavorando per voi va che manca quello in alto e mica de burla giù perché di qua non sta giusta c'è dentro i buchi che avevi fatto te bravo adesso qua buchiamo uno lo mettiamo fa niente adesso facciamo uno almeno sotto qua ci vuole uno lo buchiamo se viene fermato lì sotto non ci mancavi ci manchi no che ci mancavi balordo quando incominci? allora tornerò tornerò sì è passato allora quando incominci? truzz mi rimuoto dai per piacere torna torna ho visto tutti i fischi e ero dito là e là ma va ormai c'è il fiuto c'è il fiuto dell'anziano quando c'è da fare i lavori pubblici cazzo gli anziani arrivano tutti ma è che è caduto un coso cos'è che è caduto? è caduto un dado però se ti togli non ti tocca più le palle se stai lì mi tocca toccarti anche le palle guarda che mi tocca scendo però se non gli altri tre dove è andato? è caduto lì eh grazie è caduto lì c'è sotto qualche piragna che mi mangia qui cazzo perché è questo occhio perché qua è meglio perché hanno deciso di qua qua si è allargato il ramatti senti di là di c'erano tanti il cazzo lo trova dentro qua no non serve più ecco basta a posto dove deve donare? di qua è pulito devo andarci e vieni giù a provare cazzo va al giro che diceva che con la moto c'è un leverino se con te lo vuole ce l'abbiamo e lì leverino ma guarda magari no quella lì viene giù abbiamo trovato e che facciamo di andare giù? non lo so mettiamo da parte abbiamo bisogno un leverino per me chi fa il bravo fa la punte esce chi se no fa la scala ascolta lì col trappolo bucchiamo un po' viene via un pezzo che dico io come è? sì non serve non serve non serve non serve perché va dentro la ranella occhio Marco allora mettiamo un po' di una ranella si piega quelle cose si che si piega è cotto è bello riempilo riempilo smettila di bagnare la gente cazzo ma sei cozzone guarda che roba incastratoli bene vedi dentro che quello là di lì c'è bene che è a posto vai Marco puoi provare vai 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 a scendere prima però aspetta che se ne fa un altro buco lì che la blocca non ci ho pensato a quello cosa è? due buchi il mio pensato due buzzi che lo mettiamo sotto ascolta prova a salire senza sassi questa qua non si vuole grazie a tutti grazie a tutti Grazie.